Adesso vi presento il gioiellino dell'Incasa Kazam, che è il Tornado 348, il telefono più sottile al mondo, solo 5.1 mm di spessore, dotato di un processore Mediatek Octa-Core da 1.7 GHz, ha un display da 4 pollici 8, da lì deriva il nome Tornado 348, ed è un display HD IPS, ha una memoria interna da 16 GHz e una RAM da 1 GHz. La fototamera da 8 megapixel, quella interna da 2 megapixel. Il telefono lo troviamo in due colorazioni, sia white che black. Oltre al telefono di punta, del gioiellino della famiglia Kazam, volevo presentarvi anche quello che sarà presso il telefono per il business. Il telefono non sarà il successore del 348, ma andrà ad affiancare il 348. Questo telefono è un prodotto da 5 pollici e 5 LTE, quindi single sim, con processore Qualcomm 64 bit, fotocamera da 13 megapixel, in collaborazione con Sony, e IP67. IP67 cosa vuol dire? Che è resistente agli urti, è resistente agli schizzi, ed è anche consigliato per un pubblico anche più hard, più strong. Sappiamo che abbiamo dei servizi particolari che offrite, anche su questi prodotti? Sì, anche su questi prodotti, come su tutti gli altri della famiglia Kazam, andiamo a dare il servizio di rescue, il servizio sul display, quindi le stesse display, nel caso in cui, ripetiamo, si roba il display il primo anno per la prima volta, viene sostituito gratis, e la garanzia, che è la garanzia di due anni sul telefono. Perfetto, grazie mille. Grazie.